Ciao creatora, oggi piccolo vlog minuscolo, si parte in moto e si va a fare un giro al mercatino vintage di Bolesella so che l'intro non era quella che ti aspettavi, però è un velocissimo video, quindi lesco andiamo a vedere che cosa troviamo non ci sono moltissime pancherelle oggi, però un giretto ce lo facciamo volentieri insieme, c'era molto caldo e alcune quadrature sono un po' perché non vedevo cosa stavo riprendendo per il riflesso del sole alcune pancherelle insomma non tanto, altre invece erano belle, infatti qui cosa sto riprendendo non si sa vabbè, vediamo insieme, se troviamo qualcosa da acquistare di particolare oggi non sto cercando nulla, però se trovo qualcosa che mi piace ovviamente me lo compro, cosa ne pensi creatura? anche tu vorresti comprarti qualcosa di vintage, qui c'erano delle chitarre anche strane e aiuto, mi passano davanti le persone ok, attrezzi di lavoro, i libri libri, vinili, altri oggetti qui ho visto un insetto strano, tu riesci a capire che cos'è questo insetto, questo qui poi questa era una molto belle ma molto care, tipo 18 euro, anche troppo qui c'era uno scatolone pieno di questi troll in questa pancherella poi ho fatto il mio unico acquisto che poi a fine video ti mostrerò era una pancherella molto particolare, aveva delle cose strane e quell'oggetto mi ha attratta come me l'ho visto ho detto, ok devo comprarlo ti sto facendo molta curiosità vero creatura mi scuso se ci sono dei suoni orribili intorno a me ma le cicali non le posso spegnere e questo sono, credo, white nose sia del computer comunque, un sacco di oggetti vari misti le pipe giocattolini vari coltellini poi questa foto era super creepy quindi ho detto, no devo riprenderla già, adoro poi qui un sacco di vinili musicali e poi mi ha attirato l'attenzione questo gioco di carte non so cosa fosse e poi altri libri dei giochi super creepy dei giochi sporchi non lo so, era tutto molto era sì, più che vintage ecco l'acquisto era un mercatino di cose usate ho preso questo che io ho detto, ah quanto costa quella carina non è una carina e sono stata sgridata beh, lasciamo a perdere e costava 10 ma mi ha fatto 7 euro e non so perché l'ho voluta cioè l'ho vista e l'ho voluta qualcuno sta urlando fuori dalla mia finestra molto bene e poi questo non l'ho comprato io però vabbè mio papà se l'ha comprato è un campanile alla bicicletta distrutto ma lui piaceva come suonava e quindi l'ho acquistato io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura ciao creatura